Siamo con San Martano, grande partita oggi, complimenti, è una delle partite più belle che ci ho visto fare dall'anno scorso, un commento su questa partita, una vittoria meritata? Sì, meritata, siamo un gran gruppo, è stata la prima vittoria stagionale, abbiamo avuto due domeniche difficili ultimamente, però oggi ce la siamo meritata, abbiamo giocato di squadra, abbiamo vinto bene, siamo contenti, pensiamo già domenica prossima con il Cuneo, speriamo di fare una gran partita e poi si vedrà. Te devi migliorare a mio avviso un po' di testa, in che senso? Quando sei in campo a volte sei un po' fumantino, un po' alla balotelli, lo sai, sei conscio che devi migliorare sotto questo punto di vista? Sì, sicuramente, infatti ci stiamo lavorando tanto e speriamo di raggiungere i risultati che ci stiamo ponendo, diciamo, e niente. Vabbè, dai, comunque oggi hai fatto una bella partita, quindi da una parte sei scusato e cerca di migliorare su questa strada che ti puoi togliere delle soddisfazioni. Sì, sì, tanto speriamo tutto il gruppo che si toglie delle soddisfazioni, perché siamo un gran gruppo e ce lo meritiamo tutti, davvero. Grazie. Grazie a te. Grazie. 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 Grazie.